Il bambistero è un po', il mattino, il gruppo di prima, il bambino, il bambino, e volevo sapere che tipo di miele fai? Allora, noi in questa zona facciamo il messore a discussione, un mattone, la caccia, in questa versione, e dopo facciamo un caccia. Sì, in base al periodo di fioritura del fiore, la caccia dura. Sì, in base al periodo di fioritura del fiore, la caccia, in questa zona, il bambino, e poi la caccia, in questa zona. Grazie. Grazie.